Non solo militari e armi in pugno, di fronte all'ambasciata dell'Ucraina qualcuno ha voluto lasciare un fiore in segno di pace, mentre nella capitale si decide di innalzare l'attenzione alla luce dell'attacco russo all'Ucraina, questo quanto emerso durante il tavolo di coordinamento tecnico per l'ordine e la sicurezza, che si è tenuto ieri sera presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, e al quale ha partecipato il questore Mario della Cioppa, massima allerta in città, l'attenzione per la guerra, seppur geograficamente lontana e palpabile, il piano voluto per prevenire possibili azioni dimostrative prevede una serie di misure volte ad intensificare la vigilanza fissa armata intorno alle due ambasciate Ucraina e Russa Roma, blindate e intorno alle due presenti all'interno dello Stato del Vaticano, attraverso la presenza dei militari impegnati nella missione Strade Sicure, intensificazione inoltre dei servizi sugli obiettivi sensibili, quali le sedi di compagnie aeree, gli istituti di cultura, chiese ortodosse, uffici e associazioni riconducibili alle comunità dei due paesi, aumentata la sicurezza anche nei palazzi delle istituzioni, che saranno sorvegliati da polizia, carabinieri e finanza, che supporteranno l'esercito, attenzionati monumenti e chiese, mentre il passo successivo riguarderà l'organizzazione dell'accoglienza dei rifugiati. Grazie.